Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo e benvenuti in un nuovo video. Oggi ci immergeremo nella storia e nelle prestazioni di una delle Alfa Romeo più iconiche degli anni 90. Questa è l'Alfa Romeo 155. Questo modello ha segnato un importante capitolo per il marchio. Non solo per il suo impatto nelle competizioni, ma anche per via del suo contributo nell'evoluzione del design e delle innovazioni tecniche che sono state apportate a questo modello. Per portarlo a livello a cui lo vediamo oggi. Esploreremo anche le sue prodezze sulla strada, le sue versioni, le prestazioni e soprattutto le sue prestazioni in gara. Perché questa non fu solo una macchina stradale, ma fu anche una macchina utilizzata per correre nei campionati tedeschi, come il DTM e il campionato italiano per super turismo. Quest'auto ha segnato l'era degli anni 90 per l'Alfa Romeo. Iniziamo. Allora, l'Alfa Romeo 155 è stata lanciata nel 1992 e rappresenta il punto di svolta per il marchio Alfa Romeo, in quanto nasce in un momento cruciale, che è il momento in cui Alfa Romeo viene annessa al gruppo Fiat. E questa, diciamo che, doveva, aveva un design che doveva rispondere alle nuove strategie del gruppo. E quindi, questa, l'Alfa Romeo 155 aveva il compito di sostituire l'Alfa Romeo 75, che era un'auto molto amata dagli appassionati per via della sua architettura, per la trazione posteriore e per la sistemazione del cambio, che garantiva la distribuzione del peso al 50% all'interiore e al 50% al posteriore. Però, tuttavia, l'Alfa Romeo 155 portava a un cambio di rotta, in quanto abbandonava la trazione posteriore per passare alla trazione anteriore. Tuttavia, però, ci furono delle versioni a trazione integrale, chiamate Q4, che permettevano comunque sia a questa macchina di avere un KD sportivo. E, aveva sempre una piattaforma condivisa, diciamo, con altre vetture del gruppo Fiat, come ad esempio la Fiat Tempra e la Lancia Dedra, che avevano tutte un obiettivo chiaro, che era quello di mantenere intatto lo spirito Fiat. Tuttavia, l'obiettivo di Alfa Romeo era quello di mantenere lo spirito sportivo del marchio. E, nonostante la nuova architettura meccanica, la 155 aveva linee decise aerodinamiche, caratteristiche, che conferivano alla vettura un look moderno e molto più aggressivo per quell'epoca. Questa berlina medio-grande puntava a competere in un segmento sempre più competitivo. Infatti, le sue rivali erano la Serie 3 della BMW e la Mercedes Classe C, che erano molto competitive a quell'epoca. Infatti, il compito non era facile, ma la Fiat Romeo aveva molte carte da giocare per conquistare il cuore degli appassionati. Ora, possiamo passare il design e le caratteristiche tecniche dell'Alfa 155. Dal punto di vista estetico, la 155 ha un aspetto distintivo che è dato dalle sue linee geometriche e dalla sua aerodinamicità. Infatti, aveva un coefficiente di resistenza molto basso per l'epoca e era di appena 0,29, che per una berlina degli anni 90 era abbastanza eccezionale. Questo contribuiva a migliorare le prestazioni e l'efficienza, ma anche a renderla visivamente aggressiva. Allora, parliamo del frontale. Il frontale è dominato dai fari squadrati, dalla classica griglia Alfa Romeo, quello scudetto. Questo era un tratto distintivo del marchio Alfa. Le fiancate sono pulite muscolose, mentre il posteriore è caratterizzato da fari orizzontali che corrono per tutta la larghezza della vettura. Il tutto trasmette un senso di dinamismo anche da fermo. Dal punto di vista meccanico, come accennato prima, la 155 utilizzava la traccia integra anteriore, una scelta controversa per gli alfisti più tradizionalisti. Tuttavia, Alfa Romeo ha saputo prendere questa piattaforma estremamente competitiva. La gamma di motori comprendeva una vasta scelta di propulsori, dai motori Twin Spark a benzina, già apprezzati per la loro efficienza e potente, fino ai più prestanti fosse il busso e i motori turbo, che rendevano la 155 una vera sportiva. Da non dimenticare, anche le versioni turbodiesel, che all'epoca cominciavano ad essere molto richieste per la loro economicità. Naturalmente, per i turbodiesel, non aspettiamoci i GTDM, c'erano oggi anche quelli, ma i più richiesti erano quelli a precamera, che sfruttavano la pompa meccanica Bosch, quella, diciamo, vecchia scuola, con lineatori a tubo, diciamo. Poi, si può dire che la 155 veniva inoltre offerta, con vari tipi di trasmissione, tra cui il cambio manuale a 5 marce, e per alcune versioni venne utilizzato anche il cambio automatico. Le sospensioni erano di tipo McPherson all'anteriore, e abbracci tirati al posteriore, una scelta progettuale che bilanciava comfort e prestazioni dinamiche. Si può dire che uno degli aspetti più interessanti dell'A55 è la varietà di versioni speciali e allestimenti che sono stati proposti durante il ciclo di vita di questo modello. Vediamoli nel dettaglio. Qui fu, allora, in primis, troviamo l'A155Q4, che era forse la versione più iconica per gli appassionati di prestazioni. Questa vettura era equipaggiata con il sistema di trazione integrale derivato dalla lancia del tutto integrale e montava un motore 2000 turbo da 190 cavalli che la rendeva una vera bomba su strada. La Q4 era in grado di accelerare da 0 a 100 in 7 secondi e offriva una tenuta di strada eccezionale. Il 155 V6, che era un altro modello amato dagli alfisti ed era equipaggiato con un celebre motore V6 bus capace di erogare fino a 163 cavalli. Il 155 V6 rappresentava una delle versioni più rappresentative e raffinate e potenti di quella dell'epoca. Questo motore era noto per il suono inconfondibile e per la sua elasticità. trovare anche la 155 Super Turismo che nel 1993 era la versione più sportiva caratterizzata da un assetto ribassato, cerchi in lega, sportivi e motorizzazioni potenziate. Era pensata per chi voleva un'auto dalle prestazioni elevate e un look aggressivo. Il 155 TZ era sviluppato in collaborazione con Zagato ed era una limited edition. Questa aveva le modifiche aerodinamiche più estreme inclusi spoiler e prese d'aria aggiuntive rarissima e ricercata dai collezionisti e una delle 155 più desiderate. La gamma della 155 si arricchì nel tempo con nuove versioni. Queste per ora rimangono le più iconiche e capaci di soddisfare sia gli amanti del comfort che gli appassionati delle prestazioni pure. Un aspetto fondamentale nella storia del 155 è legato alle competizioni nel mondo del motor sport. L'Alfa Romeo 155 ha avuto un impatto incredibile soprattutto nelle gare e turismo nei campionati tedeschi ed italiani. Il modello più famoso è la 156 V6 TI 155 V6 TI che è una vettura sviluppata per il campionato tedesco turismo il DTM. Questa era equipaggiata con un motore V6 da 400 cavalli trazione integrale è stata una delle vetture più competitive nella storia del DTM. Nel 1993 l'Alfa Romeo con la 155 V6 TI guidata da Nicola Larini vinse il campionato battendo rivali del calibro di Mercedes e BMW. Questa vittoria ha contribuito enormemente a consolidare la reputazione della 155 come un'auto da competizione. Un evento molto particolare che avvenne con la 155 fu la vendetta di Nernini a Singhen dove diciamo un pilota tedesco Asch lo fece girare in un tornante e lui diciamo si arrabbiò e decise di tornare in box fare il cambio gomme e riprendere posizioni fino a seguire la Mercedes di Asch quando lui frenò quando Asch frenò lui continuò ad accelerare e lo sbatte fuori pista e la sua Alfa 55 tornò in box e prese fuoco e lui uscì dalla macchina come se niente fosse bestemmiando e perché aveva perso il campionato però in un'intervista a Davide Cironi diciamo che lui disse che non gli piacevano le toccatine in stile kart e per questo ha avuto la sua vendetta poi si può dire anche che oltre al DTM la 155 ha partecipato con successo a vari campionati nazionali come ad esempio il British Touring Car Championship la cui sigla è il BTCC e il campionato italiano superturismo la 155 ha dominato le scene negli anni 90 dimostrando che Alfa Romeo poteva ancora competere ad altissimi livelli nel motorsport diciamo che nel campionato italiano superturismo vinse molto grazie a a Giovanardi chiamato anche Piedone per via della della sua abilità alla guida non possiamo non parlare dell'impatto culturale e della legacy della 155 questa vettura non solo ha rappresentato una svolta tecnologica e sportiva per Alfa Romeo ma è diventata anche un simbolo degli anni 90 la sua presenza nella competizione ha rafforzato l'immagine del marchio e produttore di auto sportive e altre prestazioni nel corso degli anni la 155 è diventata un'auto iconica per gli appassionati soprattutto grazie alle versioni più rare come la Q4 e la V6TI oggi la 155 ben conservate sono ricercate dai collezionisti e partecipano ai raduni storici dove vengono celebrate per il loro contributo alla storia dell'automobilismo l'Alfa Romeo 155 è stato un esempio di come il marchio abbia saputo adattarsi al cambiamento del marchiato e delle tecnologie senza ormai rinunciare allo spirito sportivo che ha sempre contraddistinto le vetture al faro meno nonostante l'introduzione della trazione anteriore che inizialmente destò qualche perplessità tra i puristi la 155 si è guadagnata rispetto e l'ammirazione di appassionati e piloti grazie alle sue performance straordinarie e al suo stile inconfondibile in conclusione possiamo dire che l'Alfa Romeo 55 è un modello che ha segnato una svolta per il marchio con il suo successo sia su strada che nelle competizioni la sua versatilità e le versioni speciali l'hanno resa un'auto amata dagli arvisti ed un punto di riferimento negli anni 90 ancora oggi la 155 continua ad essere una vettura iconica sia per i collezionisti che per chi vuole rivivere un'epoca gloriosa nel motorsport e dell'innovazione tecnologica di Alfa Romeo il video si conclude qui se vi è piaciuto lasciate un like condividete e lasciate un commento dove scriverete appunto quale auto vorreste vedere nel prossimo video se c'è qualcosa in particolare che vorreste che io parlassi o comunque che accentuassi nel discorso poi non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per avere aggiornamenti sui prossimi video ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!